Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, San Sebastiano e Verolengo sono i comuni del tratto chivassese del Po interessati da uno dei grandi interventi di riforestazione finanziati alla città metropolitana di Torino con il PNRR. In tutto una superficie di oltre 54 ettari che prevede la messa a dimora di 72.000 esemplari fra alberi e arbusti tipici dell'ambiente fluviale per un importo complessivo di 2.250.000 euro. Il progetto prevede l'eliminazione delle specie invasive, le lavorazioni del suolo, la messa a dimora delle piante, la pacciamatura, la dotazione di dispositivi di protezione dalla fauna selvatica e di segnalazione delle piantine, la cura e la manutenzione dell'impianto per i cinque anni successivi. Le specie che trovano dimora in queste aree di riforestazione sono aceri campestri, ontani, crateghi e uonimi europei, ligustri, ciliegi selvatici, prugnoli, pioppi bianchi e neri, querce, salici, olmi. Siamo andati a visitare i più recenti impianti a Cavagnolo e Brusasco insieme ai sindaci dei due comuni che raccontano come si riqualificheranno complessivamente le aree degli interventi. Abbiamo riconquistato il Parco del Po, a Cavagnolo e Brusasco, in questa zona così interessante, la confluenza del Po e della Dorabaltia, in una zona caratterizzata dai laghi e anche da questa lanca meravigliosa nell'area del Piglione in cui un tempo correva il fiume. Ancora oggi appunto abbiamo una zona molto interessante a livello naturalistico, con folghe, aironi, ibis, quindi chi viene qua può vedere effettivamente un'area viva. L'abbiamo riconquistata, ho detto, perché in questi mesi abbiamo avuto un grande lavoro da parte di volontari, che ringrazio moltissimo, perché poco alla volta si sono riappropriati di un terreno che prima era addirittura inaccessibile, non riuscivamo neanche più ad arrivare in queste zone qua. Con i volontari, con i cantonieri si è fatto molto e poi oggi, grazie all'intervento di città metropolitana come abbiamo concesso l'utilizzo dei terreni comunali in quest'area qui, devo dire che si è creato veramente un'area finalmente libera dagli infestanti e finalmente interessata da opera di ripiattupazione importante con specie autoctone che valorizzeranno moltissimo questa bellissima area. Ci crediamo molto a questo, infatti abbiamo partecipato a un bando di Regione Piemonte con anche la collaborazione di città metropolitana, per cui abbiamo dato un incarico specifico a un professionista e insieme al Parco del Po vorremmo in quest'area qui fare ulteriore valorizzazione e conservazione. Da una parte è giusto conservare il patrimonio della biosfera in quest'area così importante a livello naturalistico, dall'altra dobbiamo consentire l'accesso e la fruizione da parte dell'uomo e delle famiglie anche. Quindi in quest'area qua immaginiamo un'area attrezzata in cui si possa arrivare facilmente e poi magari il nostro obiettivo è anche quello di realizzare un pontile galleggiante per la navigazione dolce con barchini elettrici. Abbiamo già un discorso avviato con il Parco del Po e grazie a questo bando vorremmo realizzare questo che potrà essere certamente un grande obiettivo. Il progetto di riforestazione è chiaramente nato dalla sinergia tra città metropolitana e i comuni di Brusosca e Cavagnolo e altri comuni del territorio. Penso che queste siano le basi per la valorizzazione, anche in collaborazione con il Parco del Po, dei nostri ambienti fluviali. Come avete avuto modo di vedere si tratta di ambienti in cui la parte naturale è ancora molto preponderante e questo ci consente di poter avviare, come dicevo sempre in sinergia con gli altri enti, dei progetti di valorizzazione naturalistica. La riforestazione che è stata fatta in questo periodo parte, era stata fatta dal Parco del Po, parte in modo corposo adesso da città metropolitana e sicuramente è un passo importante che porterà all'eliminazione delle specie non autoctone e a una riappropriazione dei territori di quelle che erano le specie arbustive che crescevano nelle aree ripariali del nostro fiume. Quindi sicuramente la volontà di creare dei percorsi ciclopedonali per fare in modo che anche non solo le persone del nostro territorio ma turisti che effettuano quella tipologia di turismo di cui i nostri comuni hanno bisogno, non quello invasivo con centinaia e centinaia di persone, ma un turismo calmo, di rispetto dell'ambiente e della natura, si possa attuare quanto prima nei prossimi anni. Questi progetti non ha senso che li predisponga un comune singolarmente, ma per poterli attuare in modo concreto è necessaria la collaborazione tra tutti gli enti, in primis tra i comuni ma poi con la supervisione, la collaborazione e magari anche il sostegno finanziario degli enti superiori.